Ora andremo a creare un cartone animato con GoAnimate, quello che preferisco io è questo qui, allora per chi si è iscritto la prima volta su GoAnimate il primo cartone animato sarà aiutato dal computer, ma bisogna fare sempre avanti, avanti, avanti fino a quando poi vi lascia continuare da soli, voi tornate indietro, cancellate quello che avete fatto e iniziate la costruzione vera e propria del cartone animato, allora scegliete l'ambiente per esempio, non so, alla pezza, poi personaggio, la voce, italiana, Giulia, va bene, queste sono a pagamento e queste gratuite, facciamo il TV, premiamo per la voce, dopo di che salviamo la scena e facciamo arrivare Marco, eccolo qui, da fuori la scena, rigiriamo, ok, e facciamo l'azione, salviamo la scena, dopodiché clicchiamo sopra a Marco e facciamo un'espressione, non so, felice, ci facciamo dire in italiano, e ascoltiamo la voce, ok, ora salviamo la scena, ora faremo, anzi, un ingrandimento, un ingrandimento, facciamo gli effetti, zoom, verso lei, verso Giulia, qui regoliamo la durata, e clicchiamo sopra Giulia, e ora ci facciamo dire quest'altra frase, salviamo la scena, salviamo la scena, ora pagiamo sulla voce, anzi, sì, sulla voce, però vediamo anche l'azione, l'espressione facciale facciamo, vediamo un attimo, ecco, ok, facciamo, ok, salviamo la scena, questo, la chiusura, ok, e salviamo la scena, ok, diciamo che è finito così, si, ah no, mettiamo la musica, mettiamo la musica, allora, andiamo alla prima scena, musica, scegliamo, non so, questa, anzi, allora, si viene, vediamo un attimo, questo, poi regoliamo la durata, tutte le scene, bene, ok, vediamo cosa è uscito fuori, ok, ok, ora basta fare, salva, e il cartone male è pronto, che dire, azz... 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 azz...